Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo, ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che, a volte, mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio, roccaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'Emporio, ed è lì che grandi tesori si celano, in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza a quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la capitale della regione ardente Velumtis, mi sono recato personalmente nel mercato cittadino, dove mi è stato suggerito un accessorio che, personalmente, reputo indispensabile per tutti gli appassionati dei TCG. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'Emporio del Crogiolo. In questo episodio, il mercante consiglia il Card Slayer 600 Plus targato Gamegenic. L'articolo si presenterà in un look total black, con il logo della casa madre inciso nel bel mezzo della parte superiore e quest'ultimo, assieme al nome della stessa Gamegenic, sia sulla parte destra che sinistra del prodotto. Una volta tolto il coperchio, vi ritroverete ad osservare due compartimenti ben distinti, uno dei quali verrà suddiviso ulteriormente in due parti da una parite di plexiglass, che possiederà due guide direttamente ricavate nella struttura dell'articolo che le conferiranno una stabilità maggiore. Parete che comunque potrà essere o estratta definitivamente per fornire a chi utilizzerà questo accessorio uno spazio maggiore atto a trasportare deck box indipendenti, o spostata usufruendo di altre due guide che permetteranno quindi un trasporto in modo pratico e comodo sia di mazzi sfusi che altri accessori a seconda del proprio gusto personale. La seconda macro zona, invece, che riporterà il logo della Gamegenic totalmente argentato al centro, potrà essere utilizzata per trasportare token, carte oversize o regolari inclusi in top loader e dadi di ogni genere o semplicemente altri articoli come bustine protettive, inner sleeve o segna vita, che potranno così essere di facile accesso e pronti per essere utilizzati quando ne avrete più bisogno. Ma la cosa che più mi ha colpito di questo prodotto sono stati i cassetti nascosti, quattro per l'esattezza, due per categoria, che verranno evidenziati da dei loghi visibili attraverso delle scanalature a segni luna ricavate direttamente nella struttura dell'accessorio, entrambi sempre con trama argentata ed esternamente riproponendo le medesime icone incise direttamente sull'articolo che vedranno rispettivamente un dado per i token e tre carte una sopra l'altra per eventuali deck o side. I cassetti quindi potranno essere portati alla luce se applicherete una pressione proprio sulle stesse icone che faranno di seguito muovere di 45 gradi una parete magnetica rendendo accessibile i compartimenti per essere utilizzati come vorrete. Gli stessi scompartimenti inoltre avranno per entrambi le solite scanalature a semiluna che ne faciliteranno l'estrazione dal cassetto, ma dimensioni e funzioni completamente diverse. Infatti per quelli dedicati a dadi ed affini, lo spazio risulterà essere maggiore e avranno ogni lato della struttura fisso. Mentre per quelli dove potrete custodire le carte sarà presente un sistema a magneti che permetterà ad una linguetta semovente di sganciarsi dal corpo principale permettendo così sia un facile accesso al deck che desidererete utilizzare o al gruppo di carte che preferirete integrare al vostro mazzo tra un match e l'altro che una facile estrazione dal proprio spazio dedicato ogni volta che dovrete estrarlo dal 600+. Ma le sorprese non sono finite qui. Vi faccio una domanda per introdurvi all'aspetto di cui vi sto per parlare. Quante volte tirando un dado vi siete ritrovati a doverlo rincorrere per tutta la fumetteria dopo un lancio fuori misura? Magari anche perdendolo per sempre? Ebbene, con il layer tutto ciò non accadrà più, visto che il lato interno del suo coperchio, che presenterà sempre il logo della casa madre argentato, oltre a tenere al sicuro gli elementi inclusi nel prodotto, potrà trasformarsi, attraverso un sistema di calamite integrate, in un Die Stray, che vi tornerà utile così per tenere conto del risultato del lancio, proiettandovi subito dopo nel vivo dell'incontro. Comodo per trasportare anche i Cube Pocket 15 Plus per gli appassionati del formato cube di Magic the Gathering e gli slide car case, fondamentali per distinguere i leader del TCG di One Piece o l'arsenale di Flash and Blood, potrete attraverso un rapido colpo d'occhio, estrarre il vostro mazzo preferito, calandovi immediatamente nelle atmosfere del vostro gioco preferito, pronti per farvi valere i match sempre più avvincenti. Ultimo concetto, ma non per importanza, vedrà protagonista sempre il coperchio, che presenterà altri quattro magneti con struttura a bottone, che andranno a combaciare con altrettanti spazi ricavati ai lati del layer, fornendo una chiusura forte e salda, che anche a pieno carico non permetterà a niente di fuoriuscire accidentalmente, causando danni ai preziosi elementi inclusi nel vostro deck. Cosa dire? Lo strumento definitivo, che personalmente ha occupato di prepotenza il primo posto assoluto tra i miei preferiti di sempre. Il Cars Layer 600 Plus verrà venduto ad un prezzo indicativo di 80€ e sarà disponibile in tre colorazioni diverse. Interamente costruito in materiale Nexofiber Plus all'esterno e microfibra all'interno, questo accessorio risponderà perfettamente alle esigenze dei giocatori di carte collezionabili più esigenti, avendo a disposizione diverse risorse che miglioreranno di certo la propria esperienza ludica. Versatile e pratico disporrà di spazi dedicati ad ogni aspetto dei TCG, partendo dai deck fino ad arrivare alla side, non escludendo altri articoli utili come toc in vari segnapunti e bustine di ogni genere che con il layer vi accompagneranno attraverso ogni aspetto della vostra avventura nello sconfinato universo dei GCC. Prima di concludere, come sempre, vi lascerò in descrizione il link dove potrete acquistare la vostra copia personale, usufruendo così di ogni aspetto meraviglioso che questo accessorio avrà da offrirvi. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti, dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica, non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!